Per il quinto turno di eccellenza l'arenato Curiangolana di mister De Eugenio Ospita e il Delfino Flacco Porto al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Partita contraddistinta dalla forte amicizia tra i quattroni delle due formazioni Spinelli e Paluzzi. Bonati deve fare a meno di Petrarullo, Sicchetti, Blasioli e Paolilli. Opta per un 3-4-2-1 con Gobbo e Falco dietro Petre. I nero azzurri rispondono con il trio tutta qualità Casati, Criscolo e Buffetti dietro il sempreverde Miani. Partita da subito vivibile al quinto colpo di testa di lupo dagli sviluppi di un corner facile per Puddu. Poco più tardi doppia occasione locale, prima mucciante da punizione non c'entra il bersaglio, poi Criscolo liberato da un velo di Miani mastica il pallone. Al 34esimo tiro da fuori di Petre e Puddu si rifugia in corner. L'occasionissima è per Miani. Casati recupera il pallone e imbecca l'ex albadriatica che ha tu per tu con calore. Sbaglia clamorosamente. Con le riprese di Mario Giacchetta passiamo alla seconda frazione che si apre ancora con il numero 9. Crossa al bacio di Giovanni e Miani da due passi. Spara clamorosamente sulla traversa. I nerazzurri spingono ancora il 38enne, devia con la schiena la punizione di Cichella, favorisce Criscolo che da pochi metri trova la risposta di calore. Il Delfino risponde, Marzucco imbecca, ottimamente Petre che elude la marcatura e una volta presentatosi face to face con Puddu tira sopra la traversa. Le occasioni sono tante ma quella decisiva capita al 22esimo. Farias con il suo ingresso spacca la partita, manda in porta in questa occasione Miani che di Mancino questa volta non sbaglia e fa 1-0. La risposta del Delfino sta tutta nella doppia conclusione targata a Rosini che in due tiri fotocopia non riesce ad impensierire l'estremo locale. Termina dunque così, Angolana, dopo una vera e propria battaglia, porta a casa i tre punti e stacca il Delfino volando a quota 7.